Ci tengo a chiarire che siamo alternativi al PD, abbiamo in animo di riqualificare il sistema sanitario che vede una lacerazione dei servizi e una preoccupazione costante da parte dei cittadini che non trovano più un ospedale pronto a riceverle e a dare risposte rispetto ai problemi che in questo momento hanno tante persone, soprattutto quelli anziane. Rispetto a questo c'è una responsabilità però, non si può dire che non è colpa di nessuno. Il PD ha gestito in modo esclusivo la sanità negli ultimi dieci anni e oggi c'è un tentativo di far finta che non è colpa di nessuno. La colpa della situazione della sanità è del PD. L'altro tema importante è quello di stare vicino a chi soffre e chi ha nella crisi trovato un momento di caduta. Spacca in questo è stato un precursore perché da anni parla di internazionalizzazione, ha sostenuto tante imprese che volevano andare all'estero per sopperire il calo di lavoro e di mercati interni e quindi quella è la strada ma soprattutto bisogna fare una politica fiscale che sostenga, che assume e che ha voglia di fare in questo momento. Ma anche chi ha voglia di fare una famiglia. La politica per la famiglia è una cosa che ci siamo dimenticati e purtroppo la denatalità di questa zona è veramente un problema per il futuro. Dobbiamo stare vicino a chi ha il coraggio di fare figli, di mettere su famiglia e di guardare al futuro con speranza. Dobbiamo stare vicino a chi ha il coraggio di un 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 coraggio. Dobbiamo stare vicino a chi ha il coraggio di un coraggio di un coraggio di un coraggio.